locket quindi sì che è lui che stava aspettando e noi stavamo aspettando noi siamo di parola non so se lo sappiamo diciamo se entra e pensiamo alla live oddio tengo il doppio audio probabilmente è giusto hello guys you are the first one the first the toast record man non deve andare in trevista chissà ciao saretta hey ciao sara hola mario hello toast i love you i love you toast tostella i remember you now toast sorry but i'm a youtubero so i have too many fans look like you like you and i have forget your name how are you toast fine or what or what lost let's get it hey lost welcome hi lost prince yes lost my friend no but you know would you know because toast is here no because the there are no a good stream right now there's no good stream right now we are the second choice of uh toast lost 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 how are you lost ciao saretta hey chocladis chocladis welcome back adrian guapo come dice cocco guapo 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 oggi ha passato una cosa fea 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 che tampocco jess se lo credia e dice no ma estas de broma no 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 tenia e l'ordinatore e l'ordinatore nel concreator abbiamo perdito driver ha passato esto madre mia ho guardato il contatore dos minuto e 22 segundos papale papale so guys did you miss me no come si dice giusto oh calamaco ti voglio bene come il primo giorno sappilo e sono felice che è arrivata sarete veramente perché serviva calamaco sarete lo sai è il destino che ce l'ha fatti arrivare qua perché sono una la versione opposta dell'altro una e maschile che infatti vorrei un nome a sarete correlato pienamente a calamaco perché io vedo due giocatori molto simili giura entrambi e qui arriva la mia stella ma è mai love è entrato il mio amore indovina chi è chi è dai il mio cucciolo il mio bufino ciao oggi è successo uno di sé a cui ti dico solo quello il computer a un certo punto ha smesso di un po' è successo di tutto yeah we're gonna play private matches in a while for sure e ti nosa after we play a bit welcome a ti nosa hello hi there oh ladri tengo una voz di mia che ora sono? di mienta di mienta di mienta di mienta di mienta si maco maco ma e maco maco carinita carinita tua amica tua amica la cica della cica dello stream sta qui ora puoi parlare con ella visto che a me a me non mi chiede mi odia credo che perché ti sono di massa delude rudo puoi essere paù benvenuto ciao ma la voce dove c'è oggi? ma neanche io ma mi sa che tutta parceria infestata loked ti odiamo loked non saluta nessuno loked è il vero primo oggi you are not welcome here il vero primo ciao bello perché è il vero primo di tutti si svegli 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 hola victorin dov'è? io non levo a stare sapendo non se di come sto jugando hola victorin sono io la che è quella chicos credo che si avrà notato quindi quindi com'è andato il vostro giorno ragazzi? a me oggi il computer si è bloccato per un secondo ho pensato al peggio mentre ho visto tutti voi che che eravate tristi che il computer non funzionava più e io che non avevo per il computer nuovo quindi ho visto una tragedia oggi ho vissuto per fortuna che un amico mi ha aiutato a riparare cioè ha riparato il computer e non ha chiesto neanche un euro perché l'ha fatto per la community ha detto grandioso no? Carmina si grande vai vai abbazza la sdoss e ti non so we are noob so we don't don't like changer ho paura di Mako 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 aspetta fammi ammazzare Mako un secondo dai lascia 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 voglio ammazzare Mako mi ha preso giusto il controllo quando stavo ammazzasplatando Mako fai il calamaro fai il serio levati di lì dai vieni a cercarmi un secondo vieni come che si vede strano fai capire alla gente chi è che comanda qui dai sicuramente è sceso chiaro eccolo il cricetino no eccolo 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 Mako ola 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 o aiutami aiutami cagnolino aiutami cagnolino sei proprio il re Igo di grande Mako grande veramente bueno puoi cuocare tu ha cambiato di peinato Mako sei dentro del perrucchiere Mako all'inclin perrucchiere perfetto ma non sai come ti splatta da mezzo campo no Mako adesso è Jess fai il bravo dai sì sono io Mako fino a che sei entrato giocavo bene lo che è fermo lo che se ha come si dice se ha è svenuto Mako ti ha splattato mi dispiace Ratti bene mi piace poverino minchio posso usare l'emperio dopo questo match quando ho giocato ho ottenuto 4 kills buono li volevo bene a Ratti capito adesso dopo sta cosa che mi dici già non li voglio più tanto bene io credo io credo che Ratti gioca wow che bella che bella che bella che bel video possiamo fare quando sveglia la switch minchia family in love tipo no family in love facciamo il video con loro giochiamo a qualche gioco no la prima coppia del canale facciamo un video ma svevi non doveva avere la switch fra un po' gli manca poco e quindi quando lei ha la switch possiamo trovarci tutti come inkling chiaro facciamo già anche il matrimonio comunque Ratti gioca a Roblox solo perché svevi non gioca con nessuno e gli fa un grosso piacere non gli piace il Roblox sono sicuro è un gentiluomo Ratti dai non fallo scemo tu dovresti dovresti parlare un pochettino di più con come si chiama un secondo me la dimentico con Kate bravo con Kate caro Bon Kate è una ragazza alla tua altezza credo è british lei è british e Marco con Saretta può essere che anche se si trovano bene si 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 ricordatevi che qui si si qui pulsiamo tutti uguali oh Adrian Adrian por favor che non ha se non tiene che essere discriminatorio spagnol non se non se abbiamo lo 100% in spagnol vale quindi apprendi l'espanol che sei un ciclo intelligente l'italiano che dice l'espanolo tengo sempre la zona sono youtubero io lo dice italiano e sve piange eh bon bon ricordati che questa trovami l'opzione per togliere la chat perché io non voglio che la gente sappia cosa scrivete voi ok perché questo può essere per voi anche il momento di svago solo che se rimane tutto scritto sembra che poi ho deficienti ma io sono deficiente anche 50 euro al mese due classi di spagnola 50 euro al mese è nada macello tia già sai chi trovi la concorrenza di che della tua amica vediamo sai chi era un sei l'amica di carignita che da classe di spagnola 50 euro al mese al mese però quantas horas non lo so quantas horas cari fox i miss you but i fox ma cosa è l'espanolo fox claro che fox de fox 555 claro si è spagnolo quindi ti lo dico sono molto affidato con te perché non ti ha l'appello dico che lo sappas te saluto tutto però sono molto affidato con te dico mi creiva che era un nico di de verdad invece non lo sa illusionato solo per il video sì quindi ora avremo un handicap match kaleb bon mako e un altro contro fox oh sì che tale sta fox 10 ore dice 10 ore 24 ore 10 ore in tutto il mese carina per 20 euro grazie a tutti grazie a tutti grazie benvenuto benvenuto o benvenida io non lo so ah 2 si hanno suscrito oh quasi quasi cado molto veloza si da yeah cada vez mi gusta questa cosa allora che se ma so meno intende della punteria mica mi si sta bloccando stream lab perché non lo sa e poi c'è anche tibon che si iscrive ho avuto tre subscrizioni in un secondo e si è bloccato tutto youtube non mi vuole bene youtube youtube si è bloccato ma che strano sto facendo vedere e questo perché non è così è tutto questo è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto male funziona però the fox fox sabato è tutto cumple wow wow passalo con il tuo amico intonso perché tu non non chiedi no non schiedi te host come si dice ti ricatto ti ricatto è come ti chantajeo sì in inglese che ricattare ah no è sempre confondo io so con questi termini ricattare amenazare no no ricattare è estorsionare tipo in inglese già ah dobbiamo parlare con la gente allora close hello 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 how are you oggi ho imparato fischiare ma tutto lento e l'esperienza cosa dice cosa dice les direi che se si suscrive a este canale si non lo chiede oddio allora salve mocia che l'ignita dopo ci ho imparato a fischiare a chi alle capre alle capre ma come nel senso così o tipo più alto non lo sai fischiare in generale io non capisco perché stream lab non va oggi ma va bene ma va bene così saluta un po' tutti dai ciao ragazzi oh my god mi butta rinnova hello everybody all the people watching entonces chicos ho io tenete questo problemito con l'ordinatore entonces ora mi encuentro che non mi funzionan bien bien lo hello hello everybody can I gayly say gayly tosta odio odio toast toast the chat go really fast for me right now so wait I respond to you but the mode are ego understand me hola hola kelly hola kelly hola doce si le petit le petit suisse we don't speak french sorry sorry spam no adesso scrivi via my channel chi no closed qua non si parla di canali digli che guardi l'unico canale che si parla è quello di vientastic the only channel closed the only channel you're allowed to talk here apart from ours is the one of vientastic all the others get banned vientastic and live game of family che suspiras minchietto no stanno scrivendo troppo non riesco a stare dietro te lo giuro metti la chat lenta te lo giuro devo capire come come settare la chat per farla per farla meglio capito perché non è possibile che mi si blocca se no si blocca allora chico se un secondo dai per favore perché qui già sta solo giocando non tanto agua cosa tua non mirare a chi un secondo ma io non lo guardo lì non vai te no io sto soffriendo la vera è che i partiti mi hanno gustado con il pincel mi piace questo mi piace con il il pincel ma ora mi sento veramente cambiando la pincel weapon o weapon it depends from where you come from i learn weapon la cosa tipo della rueda no spin wheel donation tickets wish list chat box all star sorry guys i'm setting just a second one option no merda i forgot to change the web ok next next match will also be fine iniziamo a incazzarci anche con Caleb un secondo in diretta proprio c'è Caleb Caleb buona sera buongiorno Alexito Alexito hola Igo di black oh there he is he is our prestige member the higer black almost everyone of the stream I think c'è Tina ciao Tina hola Tina che tal dove chi è Tina toast victorine fox svevina le petit swiss carinita kelly ma scusa ma tu hai visto che kelly non ha più il nome Igo di ci ha lasciato si Igo di kelly non si ha abbandonato è una lastima che è passato perché hola ciao andrea bentornato oggi lo stream è tuo mio oggi sei la gamer in aczione allora dejami fare un secondo la youtuber fai la youtuber dejami vedere quanto like tengo e quanto dislike tengo solo 10 like no no chicos oye chicos io non sono qui per io sei qui per lo like entonces ponete like por favor mi enfadar perché in serio non può essere che solo tre persone mi diano il like lo so che sono molto ma spero che 12 minuti youtuber dai anda ponete like mi enfadar e puoi attirare l'ordinatore che è una mierda però ho dici mierda 22 26 se puoi adesso puoi quindi se può si può a questa ora svizzera we love svizzera ma dove Kate no chi era svizzera Kate Kate sei qui Kate Kate dico di Fox ha vuelto eh así mi gusta más oh che guapo quería hacer solo un experimento para saber se podía morir oh esguere devo fare anche lo youtuber o almeno 5 minuti su 3 ore no che cazzo me lo lasci fare fammi fare un po il british non so se hai visto il me che mi hanno disegnato a me il mio mio è figo il tuo non è figo non è british come il mio sono io lo youtuber I'm kidding of course close why you go please what what happened he's faster than the light alexito mi gusta un montone alexito il nome alexito sai l'ha scelto proprio bene no minchia Jess tu non puoi adesso lo cucar ostia mi pare se quando pongo cocco a chi ha mi ha habla juega as se luido come as cocco deve ser quando si ah ah no interagisci perché sono andando con voi las capolitas angelito ale 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 angelito ale ale buonas noces adriano guapo buonas noces no petite viviamo in barcelona spain 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 lo tengo non potrei non potrei non potrei dire ora reaction se parte in dose una cuerda vocale kate svizzera cosa in più inglese e francese kate qua c'è un altro svizzero lo vedi le petite swiss le petite swiss sono confusa in sto gioco ragazzi non posso già più ragionare ma dovresti giocare anche te ma sono british spain è il tuo momento tengo che jugar chicos e non tengo ganas di matar mis amigos lo fare per la community 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 Fox possiamo contestare solo a tua pregunta da ora pa delante antes non era Igo di siamo molto riservati per perdonare no problem swiss sometimes also speak in english only that maybe today it's easier for us to speak in spain si ma adesso sono in un college in spagna kate mi mi deve sempre lasciare sbalordito sta ragazza adesso ci dirà che ha sei mani come la dea indiana e che prevede il futuro e mi dice non riuscire più a comprare le banane le banane perché le banane 9 6 3 2 si 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 todos fox todos tenemos un hermano che va cambiando nombre creme io también ho teniendo un hermano che me cambió de nombre y boh solo en este día tenía este hermano no te preocupes lo importante que no te lo va a quitar más porque fox es uno de los primer amigos también entonces me molesta si si fox hace mucho si cate veramente tiramisú que buono el tiramisú i hate you petit swiss because right now tomorrow i have to do tiramisú because Jess broke my ball si 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 dire meno per le palle please my love make it please please you are near to be banned no false lo dite de verdad una más spadum champion of the inki wow hello friend nine six three two guau que paso bellissima parece una poesía 9632 victorin que has infiltrado a chi que pone la paz errada por no ser jugar no dani 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 por qué no dani dani chicos dani aún está conectado qué 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 no 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 forse andate a carezzare le pecore due secondi e poi torna o l'asinello c'è l'asinello che c'è l'influenza ha detto mannaggia mannaggia le condizioni climatiche non ci sono più le mezze stagioni e stava unendo si vale tanto tenia che spera vittorini perché te unia come ultimo ma cos'è mincea per ora se no di la tosta di la tosta che comunque lì si è scollegata la stanza e la tosta che comunque io no in un moderatore americano ne avrei veramente bisogno ma lui è un buffo e che cambia sempre il nome perciò non glielo do seriamente per questo deh Sandro no for diretti possessere dimassato in diretto sorry for being maybe too rude Sì, semplicemente, ha detto a me che magari necessiterà un modo americano, ma che sei un bufo perché hai cambiato troppo volte il nome, quindi questa è la ragione per cui non ti accettiamo. Credo che adesso Toast, a distanza di tre mesi, ha capito come siamo. E credo che tu, Toast, a distanza di tre mesi, guardandoci, hai capito come siamo. E quando un'altra cosa, una news a nostra comunità, tambien Kareb se sigue cambiando demasiado nome, ves nombre, le chito il moderador, perché mi parezza che non le gusta Serigodi, e quindi, deve essere una cosa bella perché siamo una delle prime comunità globale, quindi deve essere orgogliosi di essere uguali, perché non so io, sono solo. E questo, tendo anche a comprenderlo, perché mi ha infatti quando si trattano nome, coi! E lo primero, anche, non si può, cioè, quasi non lo accetto, però è Kareb, quindi come lo sai, lo voglio e accetto ancora un pochino, sperando che lo comprenda perché... Oh, hola, hello, my Japanese friend, because you are my personal Japanese friend. Hey, Japanese friend, also from me, hi. Io nonché ho visto cambiare nome, né a Mako, per esempio, no? Sì. Né a Bonn, né a Duca, un montone di persone. Sì, hai molti persone. Però dili... I'm done in next battle, ok? Dili la tost, che se ci pensa e vuole un po' di serietà e continuità, sì, sicuramente sì, perché è un amico. Lui è uno dei primi, veramente. Sì, a cosa? Che potrebbe essere un moderatore perché necessito di un moderatore americano. Ma non hai appena detto che è un bufù? Sì, ma se mi dice che è serio, sì. Insomma, c'è una parola sempre, esiste una cosa che si chiama parola. Se una persona lo mantiene, è degna di essere, di aver fatto la parola. Non ci vuole che sia un amico di... No, 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 deve essere... Sì, questa è l'unica legge per essere un moderatore, ti ripeto già. È necessito di un moderatore americano, perché io non li capisco. Ok, Splatoon... Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. È difficile distinguire i colori. Per ora dominano il verde. È sembra. Ma come non è di pinta... Onde sta? 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 È confuso, eh? È vero confuso vedere un gioco di Vongo, di clan blitz. Dice tutti i modi, credo che sia il più complicato. Per capire. Per ora, il team blu è venuto. Ma Marco sta giocando? No, si hai detto di fare la stanza. Ah, vale. Ma meno male che non lo sta giocando. È uscito Vongo e gol? Lo so. Eh, lo so, tipo un per quello l'ho detto. Ma non riesco a vedere da sopra, no? No. Perché ti perdi, devi girarciato. Lasciamolo. No, no. Sto seguendo fino a che sei rotto tu. Igotir. No, ma per quello l'ho detto, eh? Per quello anche stavo rispondendo. Che magari non è la meglio abbreviatura per un Igotir, no? Quale? È quello che ho proposto Ciocladis. Ehm. Perché quando l'ho letto ho detto, eh, eh, eh. Perché? Ciocchi, qual'è? Quello che dice T-Bone. Ciocchi no. Strazzare. Che strano, dai. Che strano, dai. E se andrà la re è questa. Dobbiamo cancellare amici. Dili che cancelliamo amici e allora l'accettiamo. Ok, persone. We have to... Unfortunately, we have to eliminate some friends. Then we will accept you. Really right away. Lost Prince. Doviamo adesso? Doviamo adesso? Can we do it now? Si. It won't fall, no? No, go ahead up. Non lo so. Ok. I think no. Sei amicizia. Dio mio. Ma non le abbiamo viste. Cosa facciamo a posto di... Come? Sei dobbiamo cancellare. Six. Oh my god, this is getting... Too bad. Six people say momentarily goodbye to the... Eh minchia, Manuela. Ariel. Uno. One. Bye. Bye, bye, bye. Quang, quang, quang. See you soon. Giuseppe. Addio, Giuseppe. È tanto che non lo vediamo qua. Quang, quang, quang. Oh, ciao, Saretta. Grazie ancora per il disegno. Si. A me è anche piaciuta, eh, Saretta? Io già l'ho messo come immagine. Mola. In spagnolo direi mola, mola. E il dibujo di Saretta mola. Buon riposo. Dili in inglese che dobbiamo purtroppo cancellare sei amici per accettare le sei richieste. Perciò devono aspettare le sponde, sì. Ok. Just people. Just a second, please. We have just to eliminate six people to accept six new. Basta. Ma hai senti un attimo nella partita per vedere perché non si caiga? Già. No. Vale, vale. Eh, vale. Ma perché? Ma perché? Cosa? Ma io sto. Sei andata, eh. Chi? Sarà là. Vale. Ciao, Sara. Ma io molta gente... Non so, non lo so. Un lost prince ha chiesto una cosa. Quanto ancora streameremo? Un'ora? Può essere, no? Venito. But... Lost prince, per esempio. No, no. Ok, no. One hour, for sure, I think. Lost. I think one hour... Diego! Maybe a little bit more. Che bel nome, Diego. Yeah. Diego, you have a good name. Axel, welcome. Hello. It's confession time in our chat. Andre. Welcome. Ok. T. 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 Wow. Hello. Cosa ha detto? Are you leaving, Toast? No. What is happening, Toast? Oh, T. Bon, non esagerare, T. Bon, per favore. Cancellati quel messaggio, per favore. Veloce anche. Niente, cancellati il messaggio di bordo. Non posso, come non posso? Sì, dammi una dottore. Uno, due, tre, zero. Uno, due, tre, zero. Otibon, fammi il favore, se vuoi scherzare, non entrare con un account da moderatore. Entra con qualsiasi altro. Capito? Perché... Minchia, non sai quanto pesa sta cosa. Sto carico. Uno, due, tre, zero. Sì. Non so, raccoglili con un altro account. Non sì, troppo. Ma, Toast e io, se vuoi. Grazie a Toast, allora. Ciao bye, Toast. Che è passato? Tu ne vai anche bene? Buonanotte. Ecco, locale. Kaleb Justo antes Hablavo mal de ti Che non sei Mirate il replay Kate è sempre stato così Sappilo Dai Jeff Fai questa partita tua Black and Jess Oh buonanotte Buon se vai a dormire Se stai qui Meglio ancora Se vuoi cambiare arma Dov'è? C'è vero commerciale No vai Penso che ce la faccio con Il pennello Allora questo può essere Una partita veramente interessante This can be a really interesting match Purtroppo Dobbiamo accettarlo Così com'è Ok Marco Ok È perché ieri ha dormito Molto Sempre Drink water Acqua Buona l'acqua Especialmente quando play Buona l'acqua 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 Mi pare è venuto a prendere qui. Penso che il black è... ...tanto a evitare di venire... ...dicare... ...dicare la parte... ...dicare la parte... ...dicare la parte... ...dicare di dove è venire? ...dicare di dove è venire? ...dicare di dove è venire? ...dicare di tutto... ...Dicare di tutto. ...Dicare di Victor! ...dicare... ...dicare ancora il mio base! ...all black. ...all black. ...all black. ...all black. No, 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 no. Jess? Non ci sei. No, infatti non vedo neanche lo schermo, già. Io vorrei andare al bannino. Perché sono scesa? Jackie baws. Ma... Da quanto streamiamo? Non lo so. non ne ho più pari di idea, non è tanto, sarà mezz'ora 43 minuti PewDiePie My name is PewDiePie Adesso mi sono ripreso un po' Vai Jess, sei tutti noi Olè, l'ho splattato il cane bomba Oh, che lanciata a caso Vedi come a volte servono Allora, io non capisco questo Per esempio qua, se devo lasciarlo così o così Ouch, questo era troppo vicino per me E mi sa che stiamo vincendo, guarda Può essere sì Guarda Ma con un blak Bellissimo Si Questo era un blak Non so se mi senti Sì, credo che è venuto con i cioccolati. Cioccolati verde. Quindi... Sono sempre stato Team Jazz. Che merda. Ma che dici? Io pensavo che mi volessi bene. Niklas, ma si solidarizza con me. Siamo bene, sei bene. E tu? Ciao, Niklas. Benvenuti. Io leggo un nome e solo da che paese è. Te lo giuro. Ciao, Niklas. Parlare subito in tedesco. Raccontagli qualcosa del canale e basta. E' un po' di ma. Sì, hoff, tu magst i nostri channel. È questo l'essere che tu sei qui. Vi streamiamo meistens su Splatoon. E... Io... letto è una clac anzumi spi l'ebo diciamo qual era il codice 1 2 3 0 ok 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 3 is the code 3 0 a 1 1 2 3 0 is the code I did a new job I said ok if I try to get them, I will not be able to get them and then I said I will do the best and Victor is on top yes that wall I like him and if he is dead you like Victor I have a déjà vu look why? it's clear I don't like these rain of color white black has survived perfect and chocolate is also alive I'm going to put transport I don't care I'm crying I'm crying I'm crying and a mutu splat but it was worth it I'm crying and a mutu splat but it was worth it bella 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 partita che bella partita adesso giochite in class due alex vinci alex vinci non l'ha fatto anche prima non lo so non tanto bene come prima molto bella bazzucarpo amara se è quella è quella domanda cosa quella è la domanda che fanta voleva farti che schede voleva faccio ce l'aveva da un po di giorni faltano cosa si o non mi piace che di fanta non ha una personalità stabile sai adesso il processo è una pubblicità stiamo facendo una pubblicità è come schiena siglo mercedes si è vero a qualche senso per te quello di fanta o è per la marca proprio si posso chiederti così non so per curiosità no secondo me perché la non sapeva che non rimettere ha fatto scegliere random word searcher chiaro e boh lunga storia è ma se una lunga storia ha un senso c'è magari qualche altro nome che potresti estrarre di quello o come è fanta riversa no mi sa che non suona bene at naf at naf oh lo tengo in spalda c'è lo zypper c'è lo jet ula 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 c'è lo jet che caos che pazzesco ula ula era solo una questione di tempo ugo di limo che ha un doppio senso perché fanta è una limonata in teoria no? fanta neanche sa cos'è nella fanta non sanno neanche cos'è il limone c'è l'arancia credo ne hanno usato uno solo per fare la foto della convertina e basta detto la fanta ti dico quello a ver se mi hai perdito va bo bo claro victorin a mi se me concede l'honor por las pocas veces che juego bella bella partita velocissima tu nome preferito ha vuelto alexito miralo miralo perché non miro a giocare alexito? alexito non juegas come dobbiamo sapere oltre dfasta piccola e just bga e ti ck lisa si intuisce e no bravissimo tt il profeta lo chiameremo il profeta lui io ho si devono staccare i pollici quando fate queste cose tutti senza pollici vorrei vediamo come giocate vabbè per fare blibli 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 non ha senso voglio chiamare Fanta adesso diciamo Mosguere Mosguere vuole essere Iguodi? no lui dice che è Iguodi già no che è Iguodi ma smetti non vuole perché no deve vincere un handicap match contro Calamaco Kaleb e me prima questo è il figlio dici tu o lui? io io col più del 30% di inchiostro di me mi sa che è la prova più scorretta che possa esistere alla fine siamo in 6 giusto? mamma mia cosa è successo oggi? Iguodi fra veloci 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 dove è andato dove è andato dove è andato minchia Fox grande Fox bien hecho quanto tempo è? si vede qui a Fox a si jugare? eh l'hermano gli ha cambiato il nome eh perdona che come si chiamava tutto il rato? Fox555 come ho su un nome youtuber ah si do l'hermano proprio là c'ho un torto eh ponere il suo nome ah 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 è un desfavoro tutti proponendo nomi per sguire pike 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 hasta le pera si quindi c'è Marco dopo la tecnica per essere forte come me è il riciclaggio dell'inchiostro si cosa è? e quando avevo fatto la cosa quando avevo fatto la reaction che ho detto lui ha la piaccia di riciclare l'inchiostro è vero è vero perché mi suonava questa cosa forse si mi sto unendo e sto in aspetta di c'è l'exito ostra va Ale si io posso andare al bagno lo dico così in chat no? ma fra sembra anche a parte fratello può anche sembrare in italiano fratello neanche francesco no? ma tu anche l'hai pensato no fratello credo se l'ho sempre pensato io fanta for fra la fanta per gli amici no no io l'ho letto sempre così eh però si chiama guerri perciò usa l'innesso logico e sai perché si chiama fanta for friend c'era poco cade il basso come io non caldo un basso sono ancora in piedi puoi trovarmi lunedì Alessandrito eccolo anche ma come vota per Paik Paik è bellissimo è stato uno del ligo di storici un fuori di testa con una tecnica della madonna non gli piace ti freghi rimani Fanta Fanta for friend è Fanta for me tutti siamo Negan è stato il spettatore hai vittorin da salito? ti è parecido è un pesce il pesce più aggressivo che c'è è un pesce nei fiumi il picchio che spook è un allenatore non sanno che cos'è il pike anche a me sembra bello come suona kiwi mamma mia ascolta vai nei come si chiamano nei boot? va a costinone chi? kiwi mi chiamando arancio dai chiamati i go di mandarancio ma mandarancio si pure prugna fragolino i go di pru fragolino belli serietà madonna mia immaginate una clan warrior chi ti ha sfrattato? i go di melanzana zucca emerald i go di zucca welcome emerald si culone no devi mettere culone devi scrivere hey emerald deve andare saluta cosa succede? fox kiwi era il nome del mio papagallo e cocco è il nome di un igodi per dire cocco io ho dato al mio papagallo il nome di un igodi perciò fai tu è una faccia di incazzato i go di melanzana è bellissima vero? non sapeva che aveva un papagallo prima in Italia anche le cocco ricerche sono un po' piccola come qui il papagallo lo chiamano il minghia bacalo si lo se lo se che lo spasano la cametta metti un altro ma io ci dirgli che un secondo devo andare al bagno e tutto e dopo giochi no 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 mi rifiuto a cosa? così pochi non ha senso quasi non hai ma se vuol fare il mio bro non lo vuoi giocartela? come? vuoi giocartela? come? vuoi giocarla? si vuoi giocarla? questa ultima si facciamo un bazooka facciamo l'ultima facciamo una pausa una pausa di cosa? come vuoi? come vuoi? va via lì tanto tra un po' magari possiamo staccare live quando andiamo a giocare così no tanto se non lo rimango no no a mezzo facciamo ancora mezz'ora e basta c'è salmurran? vai proviamo salmurran dopo no non lo so non lo so non lo dico cosa? non lo guardiamo ah 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 no guarda che bello cos'è? mi sono dimenticato oh schiaccia già? ah io oh sorry guys sorry 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 my fault ma che nomi più brutti scusa eh sgherel scegli ma brutti 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 eh poi sono troppo ambigui non so come posso spiegarti meglio sai che dice un coniglio nano? guarda dove va la puntuazione perché secondo me ci sono tutti i tre visi c'è tutto sul tavolo che ha una frequenza capito? la ragione per cui vanno giù da solo l'hai visto? no ah per quello dici che scendo tante volte vale sì è vero ma anche a me lo fanno non soltanto no ma per quello sì sì dove sono andati? oh mio dio è già persa la partita dove? si può sapere dove è il Batucar? guardate in giro guardate in giro lì il Batucar vale 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 con alcuni mappi io mi pierdo non so dove sta la mia base da noi questo è uno di loro e cosa c'entra il Batucar con la base? se stai cercando un Batucar non c'è anche la base dove sta il Batucar Paola? eh ma non so guardi per terra non si trova il Batucar per terra guarda un po' mezz'aria per favore c'è? ah vale vale sì io lo veo è una cosa che tothavia non ti ho detto io devo andare al bagno ma ma lo hai detto 8000 volte mi sa che tutti lo sappiamo adesso ma io poi lo vado dietro 20 secondi e stai zitta per quello ti ho detto stacchiamo vado a lanciare un run sì sì stacchiamo vado a dire preparandolo stacchiamo stacchiamo tanto gli europei tre virgolette hanno giocato con noi se ci vogliamo collegare un'ora più tardi lo facciamo bene quindi già lanciamo per scarsa praticabilità vale ma più tanto perché può giocare anche con gli americani veramente se c'è qualcuno più tardi voglio provare bella eh ma non è la stessa cosa è quella cosa Fabrizio che fa no sì Alexito era era Jess che jugava hai visto come è quella ora io ehm scusa se li si buono dai dai schiacci esco no no guardi una partita non so non hai pronunciato niente già non possiamo uscire così ah per quello metti di spettatore e nel frattempo non ci che per giocare almeno un'oretta con la con con gli oversea gli oversea e facciamo pausa dopo se vuoi giocare a mezz'oretta no oppure ci facciamo il video di sparco al 3 visto che esce a mezzanotte questo mi sembra già più logico dillo dillo o io choclatese giocare e all'altro qu'il il nuovo Sparkle 3, che si può usare oggi e facciamo un video per... Sì, facciamo solo un video per raccontare il gioco Sì, per vedere come è E diciamo la rubrica che vogliamo fare anche La rubrica sotto i 10 euro Sì, vogliamo anche propostare una parte qui nel canale Fox, non si muove che sarebbe sui giochi che costano meno di 10 euro Oh Sakina, Sakina, ciao bella Saki, vuoi fare una cosa con noi? Chissà se c'è anche ancora Sve, che a lei piaceva tanto queste cose E che cosa? Adesso vediamo Facciamo una registrazione con chat dal vivo, non lo so Oppure che ci sia qualcuno che veda il video Se qualcuno vuole vedere il video in anteprima Ah Discord, abbiamo Discord? Sì, è vero Quindi ragazzi, lo dico in italiano perché tanto poi alla fine siamo noi Adesso noi smetteremo tra un po' di giocare perché a breve ci sarà l'uscita di un gioco che... Che volevo fare comunque una piccola recensione del gioco Eh... Però, logicamente per gli amici che ci sono su Discord Se volete creo una stanza dove vi posso streamare quello che noi stiamo facendo e sarebbe una live privata per chi ha Discord con noi Quindi, beh... Chi rimane e vuole vedere qualcosa di differente, su Discord mando l'invito privato per quello che sarà il make-off prossimo video Il make-off E dire in inglese, o no? In espanolo? Perché io in espanolo È vero, è vero, anche Chicos, lo che faremo ora è che questa è stata la ultima partita E poi ci faremo una breve pausa per poi faremo il nuovo Sparkle 3 Che va a salire questa notte a le 12 e noi ci lo abbiamo E noi ci lo abbiamo Asi che... Nada... Lo che... Podem... E se volete fare... E se volete fare... E se volete... Abbiamo una live privata per gli amici che hanno Discord Se volete... Exacto Asi che... Se volete... Se volete... Se volete... Se volete... Se volete... Echate un vistazo Che si uniscono nel Discord Si, chiaro E questo Potete anche farlo adesso al principio o poi non si può farlo Ok Chi chiede... Chi chiede... Chi chiede... Non so ora... Che non lo dicono E lo poniamo nel gruppo che abbiamo fatto a creare Vale Ragazzi, perciò... Se volete vedere semmai... Il gioco Mi avvisate sul Discord Così io vi metto nel gruppo che andrò a fare Dove mostrerò... La live privata Ma a chi sono... Ho dimenticato... Ah Whatsapp Wow Va bene... Vale Vale Creo che magnana... Mamma mia Magnana... Hai una cosa... Hai una cosa molto sencilla, sai? Resetare tutto... OBS e Streaming Lab Deve estar sempre eliminato e... Il viejo si usa solo il nuovo e impostarlo bene al nuovo perché così vai dietro ostras vai dietro so people chi vuole assistere a la chi vuole assistere a la chi vuole assistere a la private stream in discord should tell us now so that we can add a to the to the group we'll create there devi dire che lo solo che vuole assistere noi ti invitiamo fantano cosa si si che mi mandano solo dire un messaggio su un messaggio su un cenno su su discord e io creo una stanza aggiungo right in discord ci costa anche voi se chiedi smirare all'estreno contattare in discord e lo miramos e speriamo che lo lo lanciano un pochino antes solo della media noce perché la media noce vale salutiamo tutti si a big hug for all people here un abbraccio cicosa todos vi mandiamo un abbraccio ragazzi per quelli che non non ci saranno buonanotte e per quelli che vengono ci vediamo tra poco in discord e chi ci segue adesso può essere di tutto perciò almeno voi italiani seguitemi si e basta in spagnolo tu non lo dici oh tizan oh but you can come to a private stream of sparkle 3 now if you want you're always welcome in spagnolo tizan tizan contact me in private in discord because we do a private streaming so we close the streaming in youtube right now understand buonanotte a los que se vayan nos vemos pronto see you soon to all bye 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 bye